Marco, allora una bella vittoria, poi la capitano, vale doppio, è stata un'emozione particolare anche battere il Napoli dopo che tutti insomma dicevano che il Parma era morto, ma era finito invece è una bella reazione No, penso che quella sia la cosa più importante, che magari dopo tre sconfitte, magari avvenute anche due meritatamente dovevamo dare un segnale e una risposta ci sia riuscito, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita anche perché comunque abbiamo incontrato una squadra forte e quindi questo ci dimostra che comunque ce la possiamo giocare con tutti Siamo contenti, però adesso ci rimangono sei finali per quel sogno che si chiama Europa League Intanto siamo a 50 punti, già un punto in più dell'anno scorso rispetto al totale del campionato Tu aspettavi una marcia così veloce, così rapida, perché un Parma che sta battendo pian piano tanti rego No, perché comunque abbiamo iniziato con tante difficoltà, però poi alla fine sono venuti fuori i valori e penso che questo sia il valore della squadra, anche se io dico che comunque i conti si fanno sempre alla fine perché arrivare a queste partite al termine, avere 50 punti e poi non arrivare in Europa League magari un po' brucia quindi io preferisco arrivare il sesto quando ci sarà la fine del campionato Senti, sono tante però le squadre che lottano con noi per il quinto e per il sesto posto adesso si è un po' allargata la lotta, ce n'è una che secondo te nelle ultime sei giornate è da temere particolarmente o si parte più o meno tutti sullo stesso piano, ovviamente rapportandoci anche i punti con ognuna in calci? Ma io penso che non ho mai guardato le altre, quindi dobbiamo guardare noi stessi perché penso che Calmino del Parma ha dimostrato che è una delle squadre che può ambire all'Europa League è quello che se lo sta meritando, però ripeto, magari quello che abbiamo fatto finora non è bastato perché altrimenti eravamo già in Europa League, quindi ci rimangono sei finali che dovremo affrontare con massimo pugno perché penso sia molto soddisfacente avere avuto un inizio così difficile e poi avere una così grande gioia alla fine Torno un attimo al Napoli, era la quinta partita in due settimane aver vinto proprio una partita così difficile contro il Napoli che è una delle migliori squadre del campionato il Parma è l'unica squadra alla quale il Napoli non ha mai fatto go né all'andata né al ritorno e soprattutto dopo che c'era stata un po' di rotazione degli uomini ma non troppo elevata a causa degli infortuni è forse una molla in più ancora aver dimostrato che il Parma c'è ed è anche una rosa adeguata per sopperire anche gli infortuni Sì, è una rosa importante perché comunque qualsiasi giocatore a sostituire l'altro ha fatto sempre bene questo penso che per la società sia un motivo di orgoglio perché vuol dire che ha scelto giocatori e anche uomini perché comunque se arrivi a 50 punti a 6 giorni al termine a una squadra come il Parma e comunque all'inizio non si aspettava di fare un campionato così penso sia anche gratificante per loro noi sappiamo delle nostre forze perché comunque oltre a goderci durante la settimana ci vediamo anche fuori penso che questo sia importante perché abbiamo creato un gruppo solido un gruppo comunque di amici che si rispetta ma al tempo stesso cerca di fare un qualcosa di più per il compagno che magari in quel momento è in difficoltà L'ultimo poi ti lascio, Bologna insomma è uno stadio che evoca un ricordo in particolare una partita indimenticabile per tutti i diforsi del Parma e molti diforsi dicono che il famoso spareggio del 2005 è tutto sommato ancora il ricordo che portano dentro nel cuore ancora più della Coppa UEFA, ancora più della Coppa delle Coppe tu personalmente che ricordo hai di quella partita? ma io in quella partita non c'era perché ero infortunato l'ho vissuto a casa davanti alla televisione e comunque mi dispiaceva perché non potevo aiutare i miei compagni però quello che abbiamo fatto penso sia stato straordinario perché portare tanta così gente a Bologna e riuscire a vincere e portare comunque il Parma a salvezza sia stata una cosa importantissima penso che sia quello che i tifosi ricordano molto di più adesso è un altro tipo di Parma dove comunque c'è una stabilità societaria a quell'epoca c'erano tanti problemi e quindi insomma se dovessimo vincere a Bologna penso i tifosi saranno ancora più contenti perché vuol dire che l'Europa League si avvicinerà ancora di più aspettiamo i tifosi lato io lo spero però vedremo dai grazie ok grazie a tutti grazie a tutti